Al Museo Carlo Zauli di Faenza si è svolto venerdì 3 marzo il primo Open Day destinato agli operatori delle professioni turistiche dell'Emilia-Romagna. Le guide partecipanti hanno così potuto visitare a 360 gradi uno dei luoghi dedicati a uno degli scultori più importanti del Novecento e ai laboratori che ci sviluppano. Cosa prevedeva questa giornata di Open Day al Museo Carlo Zauli? Abbiamo pensato di dedicare una giornata porta aperte al Museo Carlo Zauli dedicato a tutti gli operatori turistici, guide e accompagnatori proprio perché pensiamo che sia interessante ampliare e sviluppare questa relazione del mondo della ceramica con le persone che passano da Faenza, i turisti o tutte quelle persone che non si sono mai avvicinate fino adesso a questo mondo ma che vogliono conoscerlo e interagire con esso. Quindi abbiamo strutturato una giornata dove le guide e gli operatori turistici sono venuti da noi, abbiamo svolto alcune visite guidate in tutto il museo sia nella parte espositiva che nei laboratori e abbiamo illustrato anche tutta la parte didattica che partirà appunto da questa primavera 2017 su tutti i corsi che andiamo a sviluppare per il 2017. Come è andata questa giornata, questo Open Day delle professioni turistiche qui al Museo Carlo Zauli? È stata una bellissima sorpresa. Io Zauli già lo conoscevo perché a Roma ci sono delle sue opere ma il museo è molto ben esposto, è stato molto ben spiegato sia il percorso ma lo che è interessante è anche vedere il lavoratore e dopo la parte didattica, la parte didattica con il fiore al occhiello e tutto il sistema. Come mai ha deciso di partecipare a questo Open Day? Io sono Noel Derrida, mi lavoro a Roma Argentina e sono guida soprattutto per gli argentini che arrivano qua. Volevo fare qualcosa qua in Emilia Romagna perché è tutto molto ben organizzato con questa cosa di mettere la mano nella massa che è quello che a me piace, è una cosa innovativa da mostrare ai clienti, non sempre la stessa cosa, lo stesso tour. Erano anche molto interessate a questa proposta di didattica, di corsi anche a breve durata che possono essere inseriti nei loro programmi e quindi con il nostro corso Experience che è un corso di poche ore dove le persone possono interagire con un action molto coinvolgente con il mondo dell'argilla e possono fare loro stessi dei piccoli manufatti in ceramica riescono ad avere un'idea di questo mondo della ceramica anche in poche ore.